Guerra interna al Partito Democratico Paganese, l'area che è vicina al consigliere comunale Giussi Fiore contro Angelo Grillo, candidato sindaco per il PD alle amministrative del 2014. Un vivace scontro via Facebook ha visto protagonisti i due consiglieri comunali. A Grillo viene imputato il mancato allineamento alla linea del partito. Il partito che ti ha permesso di diventare consigliere comunale discute delle problematiche del paese mentre tu impegni il tuo tempo alla ricerca di interviste senza concordarlo con il partito. Ha attaccato il consigliere Fiore. Arriva la replica di Grillo. Il mio capogruppo, perdono tutto, non ne faccio un problema. La verità è che è stata furviata perché ci sono delle sequenze che voi non avete letto e che c'è una persona che è nata vecchia e che non ha niente da fare. Probabilmente è che ha cominciato col dire che io avevo rilasciato l'intervista senza capire, senza sentirla, senza capire che cosa c'era in queste interviste. Però voglio dire se voi mi chiedete l'intervista io perché dovrei dire no o perché devo dire adesso vado a chiedere se posso rilasciarla. Insomma mi sembra proprio una cosa stupida. E allora la mia capogruppo è stata furviata e ha cominciato a partire ma credo che queste incomprensioni le chiariremo. Io spero che si parli di politica. Io non credo che questo possa essere la preoccupazione più grande del PD in questo momento. In un paese come questo dove ci sono grossi problemi. Pino d'ora che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto governo dall'opposizione. Che cosa io ho sempre sostenuto in consiglio comunale? Voi se pensate che noi stiamo qui per fare opposizione vi sbagliate. Noi facciamo governo perché vi diciamo le cose che servono a questo paese. Quindi non è un problema di atteggiamento morbido o cattivo. Un consigliere comunale, opposizione o maggioranza, deve stare lì per dire il suo pensiero onestamente per intero. E deve individuare quali sono gli interessi del paese e provare lì dentro a fare sì che questi si realizzino. Punto. Altre cose non ce ne sono.